Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dei nostri gamberetti signori Io sono Maullo941 e oggi andiamo avanti cercando di portarci a casa altri tre punti Conto lo Strochberry, ma ho sempre fatto impressione il logo di questa squadra Con queste tre facce che dovrebbero essere forse tre leoni A me sembrano tre bambini posseduti, però vabbè, dettagli, dettagli, dettagli Signori, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis In cui portiamo altri giochi e altri contenuti Mi sono un attimo bloccato E vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941 In cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Di solito qui su Youtube mi trovate sempre alle 21 minuto più o meno da meno Eccetto il sabato per giocare assieme Ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione al video per rimanere sempre in contatto con il canale Dettagli, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video Allora, contro lo Sosbury io direi Teniamo Stockholm, facciamo giocare le Smith Che già ha il diamantino a lucidità bassa, quindi ci sta Damo un turno di riposo allo Zio e facciamo giocare il McGree Qui mettiamo Kaynon titolare Con il piccolo Luna che rimane in campo Al posto di giardino diamo un posto Diamo spazio a Kantè, facciamo un po' di turnover signori Così giocano un poco tutti Grievous e Clark Qua riportiamo la vecchia coppia Avvero Lavandino e Davis Sulla destra gioca Vasella E importa, signori io mi fido di Loray Continuiamo a tenere Loray Io non so se Spike a gennaio lo manderemo in prestito Perché non mi ispira tutta questa fiducia, signori Certe papere che ha fatto in determinate partite non sono bellissime Se non ricordo male, noi in primavera dovremmo avere comunque un buon prospetto per la porta Sì, fondo schiena Fondo schiena che comunque è un 59 E sta avanzando verso il 60 Si sta allenando bene Dico, potremmo portarci fondo schiena come secondo partiere E mandare Spike in prestito In prestito E poi eventualmente No Potremmo, va bene, intanto andiamo in campo Signori, queste sono cose che dovremmo valutare a gennaio E noi siamo ancora a ottobre Dico, intanto giochiamoci questa partita E poi vediamo come cosa succede Ok, ci siamo signori Dobbiamo portarci a casa a tre punti Siamo a casa nostra Abbiamo fatto un po' di turnover Ma ci vuole Perché devono giocare un po' tutti Se no mi calano terribilmente Grande Magri Grande Magri Dimostrami che puoi prendere il posto di O'Sullivan Su quella fascia Devi correre Devi imparare a correre Magri Bravo Magri Bravo Magri Che la crossa malissimo Magri mio Mamma mia Ma è piccolissimo comunque Magri Signori Non ce l'ho mai fatto a casa Magri è piccolissimo Attenzione ancora Attenzione No dai Non possiamo sbagliarsi I passaggi così E la mamma in porta praticamente Porca miseria Attenzione Ci proviamo a mandare noi Con Magri Sulla destra Magri 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 Sterzata buona Sterzata buona di Magri Che al centro Attenzione 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 Bellissimo Il corridore libero Il corridore libero Il tiro E la parata Niente Va se la Va se la sei un esterno Non sai giocare Su quella fascia Va se la mia Vai 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 Attenzione 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 Magri Il nostro McGregor 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 No Cosa ha sbagliato Il nostro McGree No Madonna Botta sicura Attenzione 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 Grandissimo L'anticipo No Non riusciamo a levare la palla Buono così Buono 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 Teniamoli Teniamoli Calma Calma Oh è fuori È fuori Albitro Dai che è nostra Dai che è nostra Ripartiamo 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 Occhio Stanno iniziando a prestare tanto È anche brutto Stoccono Stoccono per le Smith Le Smith chiuso Mamma mia Sportellata Le Smith si è fatto spostare Come un Va bene Attenzione però a loro Attenzione a loro Attenzione a loro Che comunque ci credono Grandissimo Davis Pensavo fosse Vazela Invece Davis Adesso c'è Vazela Per Kanon Che fa fuori Su diritto avversario Bravissimo Kanon No Ma che cazzo non è Aggressivi Questi Vogliono per forza Il gol Prima della fine Del primo tempo Vogliono per forza Il gol del pina Nella fine Del primo tempo No 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 Mamma mia Albitro è finita 3 minuti Guarda 3 minuti di recupero Devono segnare per forza Signori Devono segnare per forza No no Fuori sta palla Fuori sta palla Fuori sta palla Fuori sta palla Bravissima Che cazzarola Di passati Va bene Va bene C'è impressionante Impressionante Gli ultimi decine Della partita C'è Va bene Dai, scendiamo in campo per il secondo tempo, signori Attenzione, recuperiamo palla Dai, dai, con Kanté, con Kanté, guarda il corridoio Ma porca miseria, piccola Luna Perché non parti? Guardalo, guardalo, vai Kanté Vai Kanté, vai Kanté, vai Kanté, vai Kanté Mamma mia, ma chi c'ha? Non treno come difensore Attenzione, Kanté, 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 Kanté Entri in aria, Kanté, 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 Kanté Stoccon, la sbrocca lui 1-0 Grande, picchia tutti Stoccon Bella così Stoccon inesistente per tutto il primo tempo Riesce a trovarsi nel posto giusto A momento giusto, bravo Kanté che resiste Alla carica su quella fascia Entra in aria, passaggio all'indietro E Stoccon, vabbè, Stoccon l'ha presa Una scarpinata terribile di Stoccon Però l'importante erano i tre punti L'importante erano i tre punti Attenzione, allora, al limite dell'aria No, 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 no Buttala fuori, butta bene Bravissimo, bravissimo Davis Attenzione, ripartiamo Le Smith, le Smith si fa vedere Le Smith però si ferma Rallenta Attenzione, buono il movimento Attenzione ancora per il Piccolo Luna Il Piccolo Luna allenta nel limite dell'aria Il Piccolo Luna la incrocia Perfetta ma la tira fuori Guardate, ma perché? Mi sento ancora un giocatore Gioco sto ancora con la mia Con la casacca del Morecambe Piccolo Luna Disperato Eh vabbè, dai, non ti preoccupare Piccolo Luna Ci saranno altre occasioni Sessantaduesimo Sessantaduesimo Finiamo quest'azione, signori Dovremmo un attino valutare delle sostituzioni Perché dobbiamo comunque Cercare di rimanere coperti il più possibile No, no Mamma mia Se ne poteva andare da solo, signori Se ne poteva andare da solo Se ne poteva andare da solo Tienilo su quella fascia Tienilo su quella fascia Tienilo su quella fascia Dai, dai, dai Occhio, occhio, occhio No, mamma donna mia Dai, dai che tu Grandissima Buona così Buona così Calcio d'angolo Sei contento? Non è calcio d'angolo Facciamo delle sostituzioni, signori Facciamo dei cambi un attimino Allora, facciamo uscire Kanon Che c'ha un cartellino giallo No, non c'ha un cartellino giallo sulle spalle Ma facciamo uscire Kanon per Wilding Facciamo uscire Davis per No No, 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 no No, 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 no Le Smith per chi? Per Aladino Ma è pure stanco Aladino Niente, rimaniamo così, signori Rimaniamo a piccolo cambio al centrocampo Per cercare di rimanere Vigili Vigili Attenzione Calcio d'angolo Fuori, 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 fuori Buona così Grandissimo Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Bello così Grandissimo Wilding Wilding parte lui Parte Wilding Parte solo solito Wilding Contropiede terribile Contropiede devastante Wilding Contropiede devastante Wilding Che entra in aria Wilding No, no, no Attenzione Attenzione loro Mel Gibson la deve chiudere Cross al centro Siamo fuori numero Va bene Va bene Va bene Va bene Con calma Piccolo Luna Cerca di mettere ordine Se ne sposta sulla destra Attenzione Cantè 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 Si fa vedere su quella fascia Riceve il pallone Cantè Viene subito chiuso Ma con una gran girata Attenzione Cantè Attenzione Cantè Entra in aria Cantè Entra in aria Cantè Entra in aria Cantè Piccolo Luna Il piccolo Luna Ancora Il piccolo Luna Il piccolo Luna No Ma perché non ho tirato Ma perché non ho tirato Va bene Recuperiamo palla noi L'avevamo recuperata noi La palla Grande Megri Grande Megri Con calma Con calma Signori Con calma Chi se ne frega Chi se ne frega Altamente Ci servono i tre punti Ci servono i tre punti Calma 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 Va bene così Prendiamo tempo Prendiamo tempo Prendiamo tempo Prendiamo tempo E prendiamo spazio Non andate da nessuna parte Dai 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 Calma Calma Cantè Grandissimo Uno due Il piccolo Luna Se ne va 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 Passaggio No La dovevo crossare Perché faccio questi passaggi Rosaterra Due minuti di recupero Signori Dobbiamo tenere solamente Per due minuti Sbracala come se non ci fossero Domani Sbracala come se non ci fosse un domani Sbracali Grandissimo Vase là Vase là E lentissimo Vase là Dobbiamo lavorare sulla velocità Grandissimi Tre punti portati a casa Mamma mia Che vittoria importante Signori Soffertissima Ma grande vittoria Grande vittoria Grande vittoria Va bene così Va bene così Ok signori Vittoria importantissima È un gol di Stockholm Che ci proietta Al quinto posto 25 punti Come il Luton Che è al quarto posto Vediamo Siamo un punto Dal terzo posto Buono così Andiamo avanti Fino alla prossima partita Che è contro il Wigam Che sono sedicesimi Ok Ok va bene Va bene signori Detto questo Vi ringrazio Ricordato questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i seguenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao